Eccoci qua, è lo staff di Hermes TV, canale 629, digital terrestre, con sorella di Video Sicilia, Video Sicilia 2 per l'appunto, che vi rinnova gli auguri per questa imminente festività e vi ricorda che da martedì prossimo riprenderemo con i nostri TG ogni giorno alle ore 14, alle 15, 17, 19, 21, 23 ed 1 di notte. Inoltre la nostra televisione affronterà insieme alla cittadinanza quelle che sono le problematiche che riguardano questo territorio e seguirà tutta una serie di appuntamenti. Inizieremo con un appuntamento sull'ingresciosa questione che ha interessato la processione del giovedì santo, infatti giovedì andrà in onda uno speciale dedicato con gli artefici di quanto è avvenuto, ovvero il padre nostro non recitato o meglio gli apostoli sono stati allontanati dalla processione per averlo fatto e cercheremo di fare chiarezza su questo e poi vi intratterremo con la campagna elettorale che in questa città prende corpo e che vede in lista ben 12 candidati. Ma non solo questo, vi saranno appuntamenti per i ragazzi, vi saranno anche tante notizie riguardante anche il mondo del sociale, della scuola, dell'invenitoria. Ecco, il 629, la televisione Hermes TV su Video Sicilia 2, vuole essere la televisione di Marsala. Il nostro concetto è quello di essere vicini alla città di Marsala, essere un po' una televisione tematica e non ci vergogniamo di questo. Una comunità con 100.000 abitanti può avere e ha l'obbligo di avere una televisione che la tiene informata. Ma di questo ne parleremo prossimamente. Adesso ci lasciamo con voi, augurandovi una Santissima Pasqua, insieme al nostro staff, mancano alcuni dei nostri collaboratori, ci dispiace che non sia stato possibile averli qui con noi, ma insieme auguriamo a voi tutti una Santissima Pasqua. Auguri! Auguri, auguri!